che finale da Cardiopalma ragazzi il Napoli che con tutti gli sforzi fino all'ultimo prova a pareggiare questa partita al De Garmando Maradona ma partiamo dall'inizio per le statistiche intendo per le statistiche non fra intendetemi perché poi lo Spezia la partita che doveva fare l'ha fatta perché quella doveva fare sostanzialmente ma per le statistiche questo risultato è più falso di una banconorta delle monopoli perché parliamoci chiaro ragazzi c'è una squadra che leggi le statistiche e ti fa 25 tiri in porta e poi vedi che lo Spezia era anche un uomo in meno e va a vincere 2-1 al De Garmando Maradona c'è qualcosa che non va ragazzi c'è veramente qualcosa che non va io veramente non ho parole perché non me lo sarei mai aspettato non me lo sarei mai aspettato ci sono certi episodi che comunque devono farti riflettere sicuramente a Napoli manca la prima punta manca la vera punta che fa i gol davanti infatti solo nel primo tempo Napoli ha avuto 15 occasioni da rete 15-12 non mi interessa 6 buone con Insigne 2 con Politano 2 con Lozano e niente non è entrato nulla nulla un po' perché è bravo Provedel a fare i suoi miracoli un po' perché anche Napoli ci ha messo del suo poi Gattuso cosa fa? Una cosa intelligente vede che gli manca un attaccante di spessore in campo hai Orente hai Petagna non c'hai Osimè non c'hai Mertes che sono quelli che segnano di solito mette Petagna e Petagna poi fa l'1-0 ragazzi quindi il cambio di Gattuso è azzeccato perché ci sta fa comunque massa in aria no? c'è presenza in aria davvero davvero a punta dove Di Lorenzo fa un cross basso e Petagna prende il tempo e segna tanto Petagna appena è entrata ha avuto un'altra occasione coprendo palla tira una bomba vicino alla porta di Provedel Provedel riesce comunque a metterci i guanti davanti ha avuto un riflesso lì Provedel pazzesco è anche vero che in segna il primo tempo si mangia ancora davanti alla porta perché forse lo sanno gli andrà leggermente indietro la palla però gli dà in segna e aspetti che te la mette dentro comunque Petagna segna 1-0 è finissima che comunque poi il Napoli la partita ce l'abbia abbastanza in discesa poi Ruiz Fabian Ruiz ecco mio caro ragazzo io non sono un giocatore professionista non ho mai giocato in Serie A ho sempre giocato in campionati direttastici però se il giocatore dello Spezia è in area di rigore ed è girato di schiena alla porta e non è un pericolo perché comunque non è un pericolo mi spieghi perché tu Fabian Ruiz fai quel contatto quando il giocatore è girato e lì è un contatto inutile tu dai un regalio un rigore allo Spezia è inutile perché comunque quel giocatore dello Spezia non andava da nessuna parte non c'era nessuna possibilità che comunque poteva essere pericoloso no lui deve fare quel contatto minimo che poi sta all'arbitro a vedere se comunque dare o non dare il rigore io ho visto dare dei rigori cioè ho visto dare non dei rigori per molto peggio quindi il rigore per me c'è l'ha dato ma poteva anche non darlo il contatto c'è poi sta all'arbitro a decidere l'ha voluto dare e l'ha dato non stiamo qua adesso a sottolineare se c'era o non c'era a foto sta che Fabian Ruiz tu sei un ingenuo perché tu non puoi fare un fallo mentre il giocatore è girato perché l'altro non c'era nulla di pericoloso tu regali un rigore allo Spezia assurdo e poi Zola lo trasforma spiazza Ospina e fa l'1 a 1 ma la cosa ancora poi più stupefacente è che poi lo Spezia viene espulso se non sbaglio Ismail tanto per munizione anche lì ragazzi giallo ci poteva stare siccome no l'ha dato ci poteva stare comunque un po' il gomito era abbastanza alto l'avambraccio prende il petragno in testa l'arbitro ha deciso di dare il secondo giallo e lo butta fuori ma nonostante la munizione e poi l'espulsione che lo Spezia rimane in 10 giocare lo Spezia in 10 trova anche il 2 a 1 e questa è una cosa bella su un contropiede assurdo dove Zola riesce a toccare quel pallone che va sul palo poi nessuno del Napoli riesce comunque una volta che la palla va sul palo a mandare via quella palla in area di rigore c'è il giocatore dello Spezia che segna fa il gol del 2 a 1 è incredibile ragazzi lo Spezia ha fatto la sua partita è normale che al Diego Armando a Maradona con una squadra come il Napoli che è una squadra molto forte è difficile affrontarla a muso aperto c'è rischi veramente in piena valanga di gol ha fatto la classica tattica delle squadre piccole che si vanno a chiudere e quando possono fanno male in contropiede e lo Spezia ci è riuscito benissimo ragazzi lo Spezia ci è riuscito benissimo quelle poche occasioni dove ha potuto sfruttare il contropiede in uno ha preso il rigore per l'ingegnitore di Fabio Ruiz lo ripeto e nell'altro ha fatto il gol del 2 a 1 poi Napoli all'ultimo andare in baggio ci ha provato Napoli ha avuto tantissime occasioni Llorente che lascia il pallone a Elmas non sapeva se dargli il pallone, tirare lui nessuno ha tirato Lozano nel primo tempo anche poteva tirare invece ha avuto appoggiare il pallone a Fabio Ruiz e non se ne è fatto più niente Insigne che sveglia quel pallone nel primo tempo le occasioni ragazzi sono tantissime il Napoli questa partita non l'ha voluta vincere il Napoli parliamoci chiaro non l'ha voluta vincere il Napoli per lo Spezia sono 3 punti d'oro ragazzi oggi Genoa ha perso, il Torino ha pareggiato Cotone ha perso, lo Spezia ha conquistato i punti qua si allontana un po' dalla zona salvezza e il Napoli invece perde punti importanti perde punti importanti perché l'Inter oggi ha perso poteva un po' accorciare il Sassuolo sta scappando la Roma è scappata un po' dal Napoli e adesso sta a noi ragazzi sportivamente parlando ve lo devo dire la verità cioè il Napoli non meritava di perdere l'ha persa da sola però da tifoso questo pareggio a me viene bene perché l'Inter ha perso, il Napoli ha perso adesso sta a noi stasera a rispondere in campo i nostri tre punti sono ancora più fondamentali di prima e niente ragazzi, niente al Napoli manca la punta manca Osimè, manca Mertri sono quelli che ti fanno gol se oggi c'erano loro in campo penso che il Napoli avrebbe segnato tanti gol oggi male male ragazzi male male veramente tante occasioni sciuppate non ho parole non me lo aspettavo complimenti allo Spezia io che poi sono genovese sono di Genova per le scuole Liguri comunque ho una simpatia abbastanza importante e sono contento per loro ma partita buttata nel cesso da parte del Napoli se l'è andata a rovinare da solo il più ingenuo è Fabio Ruiz io penso che i tifosi napolitani in questo momento stanno guardando Fabio Ruiz perché non puoi commettere un errore del genere giochi in Serie A non puoi commettere un errore del genere è inutile non puoi commetterlo niente ragazzi ora noi ci vediamo dopo col post partita della Juventus vediamo se saranno gioie o smadonne in quel video vedremo Calabria a giocare a centrocampo e Frabotta a marcare Teo Hernandez mi sento già male quindi niente per questo video è tutto intanto se vi è piaciuto lasciate un bel like commentatevi sotto nei commenti fatevi sapere cosa ne pensate di questa partita assurda e soprattutto anche se fa piacere iscrivetevi al canale condividete il video con i vostri amici fatevi iscrivervi anche loro a noi ci vediamo dopo bella ciao